Soltanto 48 ore fa un altro operaio ha perso la vita schiacciato da una pesante trave di ferro e il 183 morto sul lavoro in 50 anni di attività dell'industria. Taranto considerata da più fonti, più inquinata città d'Europa occidentale. Sarà teatro quindi di un sopero controverso di tutti i suoi operai, deciso proprio per il 31 di dicembre, giorno in cui la più grande acciaieria d'Europa convie in 50 anni di attività dell'industria. in cui la più grande shorte usate, cosa troviamo? La più grande. Sonti che gli stessi e gli stessi, oggi sentite, in quanto tempo si trovi il nostro lavoro in una stagione? Sassimali dalla stagione. Sonti non sopare, ossia non sopare, in quanto tempo si trovi il sii inner 예�mini. Sì, non mi ho appena Per il nostro lavoro Non mi ho appena che questo fa l'ora stella Per il nostro lavoro 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 Grazie a tutti.